Vignolo del Little Club, tu hai segnato il terzo gol della partita di oggi, vuoi commentare? Era una partita tosta, lo sapevamo, dovevamo assolutamente vincere, anche perché sono otto giornate che non vinciamo e ci serviva un po' una vittoria per sollevarci di morale. Primo tempo siamo partiti, non dico male, però non viene come secondo e secondo ci ha dato ovviamente e abbiamo dato tutto quello che avevamo e siamo riusciti a portare a quale i tre punti fondamentali per anche smuovere un po' la classifica e anche gli anni della sport. Cosa pensi in generale di com'è andata la tua squadra, di com'è giocato tu? Al primo tempo secondo me abbiamo preso gol, mi sembra quasi all'inizio che ci ha un po' spezzato le gambe poi entrando nel secondo tempo abbiamo dato comunque molto di più rispetto al primo e diciamo che siamo riusciti anche a sfruttare l'occasione che abbiamo avuto e di questo siamo molto contenti tutti. Era un risultato molto importante per noi oggi. Un'ultima domanda, c'è qualcuno a cui hai dedicato il gol? Lo dedico ai miei genitori che sono sempre presenti ogni partita e alla mia ragazza.